Tornare a Reggio è un po' la mia prima casa, ho debutato qui nel 2012 con un balle in maschera, quindi tornare qui come stare a casa, sono molto serena, rilassata, tutti mi fanno sentire bene e quindi si lavora molto bene. La mia Tosca sarà sicuramente appassionata, gelosa, ma anche ci sarà un po' di bambina in me, è sicuramente un personaggio che amo molto, che canto da sempre, da quando ero piccola, artisticamente, sono arrivata a circa 30 rappresentazioni in 7 anni, però metterò qualcosa di diverso anche questa volta. La mia chiave interpretativa verte nel cercare di rendere vero quello che è l'amore sul palco. C'è un bellissimo esempio d'amore in questa storia che perdura dall'inizio alla fine. Questa è la mia e la volontà di tutto il cast, quello di far percepire un qualcosa di vero, con dei tempi scorrevoli, veloci, cercare un qualcosa di fresco, di giovanile, molto molto accattivante. Questa è un po' l'idea della Tosca. Questa è un po' l'idea della Tosca.